Per una figlia trapassata Cerchio, umanità e movimento Il vasetto che si vede in basso nella foto è un apporto identico nella composizione floreale a quella più grande che gli è dietro che una nota attrice della televisione aveva allestito per commemorare la figlia L'apporto orale ha riportato in piccolo e con molto dolore per la bocca dello strumento quella composizione Dopo questa materializzazione la guida Enzo ha detto che ogni apporto è una gioia ma anche un rimprovero per la persona a cui è destinato Infatti l'apporto dimostra che la persona ha ancora bisogno di questi doni divini per intuire il dopomorte Grazie a tutti Grazie a tutti